Non lo facciamo a parlare, è il presidente dell'Università, è meglio diretti, per cui mi attacca la richiesta come presidente di Mugliano, anche il vicepresidente doveva fare la risulta del distrito, quella che l'avanzato di un filo di presidenza, da un giorno fa. Allora, ragazzi, accidaci, c'è discussione prima con la politica, che andiamo avanti o andiamo avanti, i cittadini non vanno più bene, e la vostra cosa, se questo Consiglio non venga a dire. Allora, e non è meglio, se veramente, come presidente, anche la cittadinanza di inunità, ma la gente diceva qui, che se la discussione si capisce qui, il cittadino che deve capire che ne appare, a questo punto ci invidiamo, ci prendiamo il diritto, e lo invidiamo a prossimo, a prossimo, a prossimo, a prossimo. Scusa, giusto te fam, Pronto? Però io effettivamente vedo una serie di anticonsequenziali che mi viene anche difficile capire che cosa sta succedendo. Perché dico questo? Perché da un lato io ho sempre detto che questa è una materia così delicata e complessa e gioca veramente sulla pelle della gente riguardo al tempo di casa che si rischia da un lato di parte della consiglia, che secondo me in questo caso va evitata, ma che poi della maggioranza, nel senso, è molto vero. Perché quando il consigliere della lista dice che l'amministrazione, la maggioranza, si dovrebbe, come dire, perdere un'opposizione, una parte della maggioranza, per lo stesso voto che ora sono i pubblici o i pubblici, ovviamente se avete fatto una cosa che non sono più pubblici. Non ci sono più pubblici, perché non ci sono più pubblici. Si vede anche la quarta domanda, non ci sono più pubblici. Quindi allora che dice, codice, sicuramente, io non ci sono più pubblici. Quest'azio si è libera, nasce anche appunto, si viene a mangiare il periodo di questo senso che aveva visto, ma è anche vero, caratteristica della maggioranza, che ha un argomento così importante, che io mi posso al sindaco, perché il sindaco dove questo è successo anche in altri temi importanti. Quando ci sono aspettative, cose così complesse, non bisogna lasciare la cosa che si impianta, ma bisogna avere la sensibilità. Tu, quando il giorno fai una conferenza stava sul tribunale, e ti diceva che non mi sapevo, ma ci dà questo, che oggi diciamo qua, il consigliere è il consigliere di fare anche le domande del giro, perché anche io voglio capire bene quali, ovviamente, i miei anni di questa legge, e non dobbiamo arrivare il consiglio comunale della gente che viene qua, non si aspetta da noi, 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 da noi. Quello è il scarame del giro... E qui siamo, voi mi impianta da noi, 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 della Commissione, da il capo dell'amministrazione, ed è una volta per sempre, una volta per tutti, affrontare questo tema alla luce del sole, il tuo ministro, e capire, ormai questo problema c'è, perché voi dico agli amici, al Presidente del Comitato, questo è un problema cazzo, che a me mi è dato qui, perché se non lo so, che chi conosce sono fatti nobili della politica, no, è perché il colpo dei dati, non devono ricalizzare i primi, però non fa sovrire, e a quel punto dei malattie, dei dati, dei dati, dei dati, dei primi, o della regalità, esso, ormai così, come dicono, idee, all'improvviso. Però detto questo, perché io potrei dire che mi interesse come spessi, perché ho parlato così, perché vorrei che si mette le dite, a questo tempo di comitato, ragionare, non dovrei consentire che ovviamente in questa sfide non ci potrebbe sulle le dite a questo tempo di comitato. Il gruppo di comitato, gli amici, non dovrei fare la parte di amici, ma non dovrei sulle le dite, invece, non dovrei essere assurdo, ma dovrei essere assurdo, ma dovrei essere assurdo. A questo, il gruppo di comitato, il gruppo di comitato, evitato la c'era anche questo problema. Ebbene, già che sono mandati in tre anni, ma la notte di fransione che non si è affrontato, già è fatto. Quindi, gli amici di voi consiglieri, di tutti i quartieri, e scuseremo il suo tipo di sciagallare il lato civico, oggi hanno questo sentimento, non credo che è una cosa, è l'odevole da parte nostra. Però ti dico a voi, la problematica che ha il risultato, è il caso di che non si è stato disposto. Perché, al di là di cui è la mancanza di tutti i quartieri, e si è riuscita, il problema di una senza di questi. E poi, secondo me, per evitare i crisi, c'è un cavalliano, ognuno dice la sua per farci quello col presidente, oltre al vicepresidente, io non sono per me, io sono per me, non sono per i quartieri, il problema in questo momento, la politica, la maggioranza, la posizione, in questo momento, il problema così importante, si deve esprimere intorno all'automità. Quindi, io mi aspetto, dopo questo intervento, anziché di continuare, che vanno a fare niente, perché non c'è questo regolamento agli atti. che tu intervenga, il città che non c'è questa domanda, e poi non vanno a fare niente di questo regolamento, che non c'è la realtà, è la realtà del agricultor che tenta di racrondare questo problema, in carenci oltre bene. Grazie, grazie. Buonasera a tutti i presenti, a tutti i Presidenti della Consiglia dei Consiglieri, e soprattutto i cieli che stanno spiegando questo documento molto particolare, ma non c'è una cosa, 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 ma non c'è una cosa. Allora, io mi ero previsato di intervenire, annunciato con tutti i processi, e poi non c'è una cosa, ma non c'è una cosa, ma non c'è una cosa. E mentre ho accoltato, mi sono messo a fare la discegna, nonostante se ci sono gli argomenti che ci abbia dedicato, tempo rimazzato, e sento soprattutto in questo periodo per il raccoglimento dell'accoglimento. Nel padre di questa discegna ho notato che dopo, insomma, ci hanno pure delle faggine di curio, che ci scavano, che hanno ricevuto un'attività, e per andare sul barco, in queste seconde, l'hanno ricevuto da un'attività. Quindi, andate più migliori, perché è tutto inizialmente, mi ha facciato una cosa, e anche con le attività delle soluzioni, questo è un'attività. E io non ho una cosa, gente, che mi ha detto, se venga la scelta, venga la scelta da un'attività, perché della scelta da un'attività, da più forza all'altro, secondo l'uomo delle soluzioni, e ci permette di ragionare con la faccola, in un altro modo di vedere le cose. Perché un'attivizzazione coelta, unita, sui crescimento di ragionisti, e compita e poi, in modo operabile, è un po' di amministrazione, e attaccia. Mentre, guardavo questa cosa, mi sono detto, praticamente, nessuno, che mi ha detto, ha detto, cosa vuoi fare. Non ha detto, grande, ma è stato un chiesco, ha fatto un'attività, ma, degli 8, fino ad altri, a tutti i tre, che si è toccata, della maggioranza, possiamo, anche un po' di amministrazione, sia lo mio personale, che la mia ossessione, non voi, non è quella che è stata già niente, non mi serviva, in totalità, che mi decida, di portare il futuro, o a scuola, di quelle delle persone, la mia ossessione, che si fa questa, è, sarà sempre, la mia ossessione, sarà sempre, la mia ossessione, non un po' so che cosa succede, recendo la legge, però, non vedo che, questi siano, almeno sette comuni, criminali, o sette comuni, senza tempo. So quello che ho fatto, mi sono andato a vedere, alcune cose, a casa, e, e, preciso, che, voto a favore di questa legge, anche rispetto, di quello che è successo, a un membro di una mia famiglia, che non si è mai fatta via, e mai, e mai, tanto se stavamo, dovete votare voto, io stavo, io stavo a votare, a favore di voto. io, vorrei portare un punto, perché, infatti, e, soprattutto, che ci sono, da qua, uscire il caffetto, dentro delle ruote, che non c'era il caffetto, quindi, guarda, quando l'ho invitata, a, 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 praticamente, a portare una proposta, io la voglio fare, una proposta, che, una proposta che, può avere un filato, che, 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 che le persone, che si accettano queste risposte, e poi, che, 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 ha, che, che, di, del, al zumal – all'epoca una scoperta di maggioranza, e dove in grado di contribuire adottare un po' l'indicato la produzione. No, beh si, non è in grado questa volta. Posso dire una delle scoperte, io mi ricordo come lo stanno facendo, io ho un anno fa, io ho un anno fa, io ho un anno fa, se è una cosa che mi ha detto, e allora mettere gli elementi, gli elementi Li admiti? Ok Yes Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.